L'area marina protetta del Cerrano dovrà rappresentare un volano per una nuova economia basata sul rispetto dell'ambiente e sullo sviluppo di quelle forme di turismo legate proprio al territorio. È quanto emerso al termine dell'assemblea dell'AMP che si è tenuta a Villa Filiani e che ha visto la partecipazione del sindaco di Pineto Robert Verrocchio, del presidente Benigno Dorazio, del primo cittadino di Silvi Francesco Comignani e dei rappresentanti degli operatori turistici, commercianti e semplici cittadini. Nel corso della riunione c'è stata la massima condivisione sull'importanza del parco marino sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista turistico economico ed è stato deciso che nel corso dell'estate si svolgeranno due incontri in cui al centro ci sarà lo sviluppo dell'economia verde legata al parco. Il parco da oggi ha radici più profonde, ha detto Verrocchio. Per la prima volta due città, Pineto e Silvi, tanti operatori economici e le associazioni ambientaliste sono stati d'accordo nel ritenere il parco una risorsa imprescindibile per il nostro territorio dal punto di vista turistico, sociale e ambientale. Secondo il sindaco di Pineto è iniziata una fase 2 perché da oggi tutti i protagonisti avranno il compito di mettere a sistema il parco all'interno di quell'economia sostenibile legata all'ambiente. Ora occorrono le strategie, ha concluso Verrocchio, ed è per questo che vogliamo organizzare incontri che siano operativi sia nel corso di quest'estate sia nel corso della prossima stagione invernale. Non sarà un percorso breve ma oggi abbiamo gettato basi importanti. Durante la riunione sono state affrontate anche le questioni riguardanti la pesca delle vongole all'interno dei confini del parco. L'assemblea ha sottolineato che il rispetto delle regole è la condizione imprescindibile per qualsiasi tipo di confronto e per aprire una nuova strada per il dialogo con gli operatori del mare.